Ciao a tutti amici, allora ho voluto provare a fare questo genere di video che è praticamente una challenge in cui io andrò a giocare una rissa a squadre e praticamente ogni volta che io muoio devo fare 20 flessioni. Se questo genere di video vi dovesse piacere per favore scrivete nei commenti così magari i prossimi video che farò li farò un po' più difficili facendo magari non 20 ma 30-40 flessioni. La difficoltà di questa challenge sta nel fatto che avrete giocato anche voi in rissa a squadre almeno una volta nella vita però immagino vi ricordiate che una volta che siete morti rinascete dopo 1-2 secondi e quindi c'è tantissima possibilità di essere uccisi subito dopo nel senso che io devo essere molto veloce a fare le flessioni per poi ritornare indietro a giocare e cercare il massimo possibile di non morire di nuovo perché altrimenti dovrei farle subito. Per non dilungare troppo con la intro partiamo Io devo cercare di morire il meno possibile perché altrimenti dovrò fare un sacco di flessioni quindi anche se muoio dalla safe tutte queste cose valgono cioè io comunque devo fare le flessioni ogni volta che muoio Vi piace la mia nuova skin di Naruto? Guardate, guardate com'è bella Allora Devo cercare un po' di loot Un po' di loot buono per non morire troppo spesso No, la safe è dall'altra parte Già questi sono 20 flessioni sicuri perché sicuramente dovrò morire per arrivare in safe Allora, mi piacciono, sento una cassa leggendaria che ho da qualche parte Ok Un pompa ce l'abbiamo Adesso mi serve un assalto Allora Allora, le cure Devo tenermele strette perché se no Ho un'altra cassa leggendaria Perfetto Ho tutto praticamente Vabbè che quest'arma non mi piace tanto però Ma almeno è viola Ci sta Cure, cure, cure Allora, ne prendo tre Allora, cosa faccio? O mi avvio direttamente ai piedi Nella safe Oppure muoio Secondo me È meglio se muoio così arrivo lì per primo Facciamo così ragazzi Adesso muoio subito Perché potrà Fare tutta sta strada qua Non ce la farò di sicuro Così Intanto che cado giù avrò il tempo di fare 20 flessioni Così dopo posso rimettermi a giocare Allora Siamo pronti Via Ok Ci siamo E questi erano 20 Dai Non sembra neanche difficile Ho il fiatone però Sto pensando Se prendere questi No dai Allora Prima mi curo Così Ho meno probabilità di morire Ok C'è gente? No, nessuno Ma sì dai Prendiamolo L'importante è non morire Da solo Da questo bazooka E di non fare suicidi a caso Tipo adesso Ah Non sono morto Seconda parte Ma io mi chiedo Perché devo rendermi la vita più difficile Vabbè Intanto che non arrivano gli altri Quegli altri Staranno ancora luttando Da qualche parte Che palle Praticamente ci sono Tre kill Dell'altra squadra Di cui due Sono morto io Di suicidio Bene Sta arrivando la safe Adesso arriveranno anche gli altri Adesso ci sarà un po' di fight Ah mi servono un po' di mazza Sennò senza i mazzi Io sono morto Uh le uova di pasqua Molto ironico Andiamo in safe Alla Lo scar Lo scar Lo scar Lo scar Prendo lo scar Che Lo preferisco E' solo l'inizio Della partita E io Ho già fatto 20 pressioni Andiamo a prendere Il loot No Che non ti curi No Ah No Non posso morire Non posso morire Sono in due No Devo ricaricare Devo ricaricare Via 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 No Via 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 Io non posso morire Non posso morire Questa challenge diventa sempre più difficile No ma 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 via 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 non ci sono Allora mi servono un po' di cura Non ho più maz ma come è possibile che non ho più maz Devo fare i maz perché altrimenti io qua sono morto senza i maz Tra l'altro non devo solo nascondermi cioè devo fare anche un po' di kill altrimenti così non vale Cioè non posso stare non posso stare chiuso da qualche parte devo proprio pushare gli altri Ma è andato No ma che cazzo Immaginate che non si apriva il deltaplano che figata che sarebbe stato No qua c'è troppa gente Non posso stare fermo devo andare a pushare e devo fare anche un po' di maz Però prima voglio curarmi un po' Perché ho 50 g da oh ma chiudi Non ci sono No, no, no Ma come? Ho dovuto farne 40 Perché sono morto in aria Oh E devo anche sopravvivere No che mi stanno già sparando Mi servono i maz E mi servono anche le cure Lasciatemi curare Guarda che è quasi finita sta partita Guarda che è finita Non è andata No Abbiamo perso È stato abbastanza faticoso Mi sono pure allenato Allora amici se questo genere di video vi dovesse piacere Io sono felice di rifarlo ancora una volta Se riusciamo ad arrivare a 1000 mi piace sotto questo video Farò un altro video dal genere con questa challenge Facendo però 30 30 30 flessioni ad ogni morte Metti mi piace se questo video ti è piaciuto Iscriviti al canale E attiva la campanella Per non perdere i miei prossimi video Fai anche un'occhiata al mio canale E guarda i miei video precedenti Noi ci vediamo venerdì prossimo Alle 2 di pomeriggio Io mi chiamo la Siro G Ciao Io vado a farvi la doccia Ciao 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 Ciao